Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Altri Mondi. Questa sera insieme parleremo come sempre dell'argomento UFO ma in maniera più specifica, infatti c'è chi afferma che questo fenomeno non sia un fenomeno solo moderno ma che ci siano rappresentazioni e segni che ci dimostrino che i dischi volanti erano già presenti durante il Medioevo e il Rinascimento. Noi nella prima parte del nostro programma andremo infatti a vedere quelle immagini che dimostrano che forse gli alieni erano già venuti in visita nel passato. Gli ufologi l'hanno battezzata Clipeologia. È una particolare branca dell'ufologia che cerca nel passato le tracce del passaggio degli extraterrestri. Con essa si vuole dimostrare che il fenomeno UFO non è un mito tecnologico del XX secolo ma una presenza che si manifesta sulla Terra da tempo immemorabile. Il termine viene dal latino Clipeus, scudo, perché Clipei ardentes, scudi infuocati, venivano chiamati negli annali dello storico Tito Livio, UFO che sfrecciavano nei cieli romani, terrorizzando la popolazione che li interpretava come cattivi presagi. Di questi oggetti ne troviamo un gran numero nelle cronache storiche latine, nei quadri medievali e rinascimentali, nelle incisioni rupestri. L'immagine che state vedendo fa parte di un arazzo francese del 1303 a Notre-Dame de Baume in Francia. Alle spalle delle dame spicca un classico disco volante. Quest'altra si trova su un cassetto dipinto dei conti di Otremon in Belgio. È del 1600 e mostra un razzo che vola in cielo. La scritta in latino dice Splende e sale. Questo globo è in un quadro del 1500 di Carlo Crivelli, l'Annunciazione. Questo oggetto, simile ad uno Sputnik, è nella chiesa della Santissima Trinità di Monte Calcino, vicino a Siena, ed è del 1500. Questi angeli in astronave sono in un dipinto trecentesco che si trova nel monastero di Visocca a Deciani, in Jugoslavia. Questo razzo è stato inciso su un'antica tomba giapponese, il sepolcro Katsuara Mutsubase. Questa trave infocata ha sorvolato Roma nel 1400, come riporta lo storico Angelo di Tumulillis. Questo globo di luce che sorvola un gruppo di cavalieri è in una Bibbia urbinata del 1500. Questi scudi infocati che sprigionavano scintille terrorizzarono gli abitanti di Hamburgo nel 1697. Erano gli antessignani dei moderni dischi volanti? Il quadro presente nella sala di Saturno in Palazzo Vecchio a Firenze, che è attribuito alla scuola di Filippino Lippi, o anche secondo altri la scuola del Ghirlandaio, la cosa è controversa, è particolare perché mostra con la Madonna e un San Giovanni infante che gioca con il bambino Gesù degli strani particolari. Fra questo appunto c'è una strana cosa sul lato destro della Vergine, che a guardarla con attenzione ha tutta l'apparenza di un oggetto volante, non identificato come noi lo rappresenteremo oggi, con cupola, tutta una serie di raggi luminosi che si irradiano da esso, messo nel cielo a 45 gradi, e per di più c'è anche l'evidenza di un testimone oculare che lo osserva, cioè un pastore con un cane addirittura che sembra abbaiare all'insegna di questa strana apparizione. È molto interessante notare che non si può trattare certamente di un fenomeno astronomico convenzionale, in quanto nel quadro ci sono altre cose che concorrono a far vedere come questo non può essere. Fra l'altro c'è anche un'allegoria della Trinità con tre fiammelle, quindi evidentemente se doveva essere qualcosa di simbologico non avrebbe mai dovuto essere rappresentato in quel modo. L'astronauta Strekalov ha visto gli UFO? Parecchi anni fa, nel corso di una visita in Italia, l'astronauta russo, nonché eroe dell'Unione Sovietica, Gennady Strekalov, fu fra coloro che confermarono di aver visto in orbita degli UFO. In particolare Strekalov disse di avere seguito otticamente, in maniera molto distinta e netta, più o meno all'altezza dell'isola canadese di Terranova, una strana palla luminosa o voidale che veniva in direzione contraria alla sua navicella spaziale. Strekalov non ebbe alcuna ritrosia a fare questa dichiarazione e anzi arrivò a farla persino al Costanzo Show quando, poco prima di rientrare in Russia, fu intervistato appunto dalla tradizione. C'è un antico libro ebraico del II secolo d.C., noto come Il Libro di Enoch, il suo vero nome è Seferachetalot, Il Libro dei Santuari, in cui si racconta una vicenda stranissima di un patriarca ebraico che viene rapito in cielo a bordo di una strana macchina volante da quelli che lui definisce angeli, ma sono degli angeli molto particolari perché è scritto nel libro che avevano il volto trasparente come il cristallo e quella macchina era molto strana perché aveva il fuoco di sopra e il fulmine di sotto e a bordo di questa macchina il patriarca vede l'universo, osserva lo spazio esterno e la cosa curiosa è che è scritto che questi angeli spiegano a questo patriarca che loro erano soliti misurare la distanza delle stelle in base al colore. Questa è una cosa molto curiosa perché è una spiegazione molto semplice dell'effetto Doppler in base allo spettro emesso, al colore emesso, noi siamo in grado di misurare la distanza delle stelle. Ora, trovare questa informazione in un libro di 2000 anni fa è una cosa che fa riflettere molto profondamente su eventuali contatti alieni nel passato. Arthur C. Clarke, autore del famoso romanzo di fantascienza 2001, Odissea nello spazio. Ritiratosi a Sri Lanka, lo scienziato ci introduce nei misteri dei suoi archivi. Molte sciocchezze sono state scritte sulle misteriose conoscenze degli antichi. Non avevano certo bisogno dell'aiuto di visitatori di altri mondi per realizzare questo sistema di irrigazione costruito nel 700 d.C. è ancora perfettamente funzionante con un minimo di manutenzione da parte dei tecnici moderni, ma in questo caso non c'è nulla di misterioso. Sappiamo esattamente quando è stato costruito, 13 secoli fa, e conosciamo persino il nome dei costruttori. Ci sono però resti del passato autenticamente misteriosi che sfidano le nostre convinzioni su quello che era il livello tecnologico di quei tempi. Ci sono poi altre cose del passato che, seppure non mettono in dubbio le nostre convinzioni, sono pur sempre sconcertanti ed enigmatiche. Grazie a tutti.